La principessa è stata gentilissima imitarci per un picnic. Voi è Luigi? Voi è Luigi? Oddio! Sì! Grazie a tutti. Si sta infedando. Mandalic. Non vedo l'ora di bombandarlo. Wow, cosa sono tutte quelle teste? Quelle sono le facce del male. Devi conquistarne ognuna. È meglio che mi dia una mossa. Non vedo l'ora di bomba, non vedo l'ora di bomba. Non vedo l'ora di bomba. Non vedo l'ora di bomba. Ho vinto! Bel lavoro, Link! Guardate, nel Regno dei Funghi sta già ritornando all'armonia. Gli uccelli stanno cantando, non è bellissimo? Figo! Come era scritto, tu, Link, sei l'eroe di Regno dei Funghi! Oh, my! It looks like everyone's been...